E carissimi amici, carissimi amiche, andiamo avanti con il nostro conteggio. Il nostro conteggio per avere verità su Antonella di Massa, oggi 119 giorni dalla sua scomparsa. E vi ricordo che poi la donna fu ritrovata cadavere 11 giorni dopo. E non sappiamo ancora nulla. Mi posso esortare, invitare semplicemente a mandare sempre mail, l'ho fatto anch'io, ma magari qualcuno si accorgerà di queste mail. So che la redazione di chi l'ha visto ha anche disposto a qualcuno dicendo che appena ci saranno delle novità faranno un servizio, certamente. Ma voglio dire, è un po' come il cane che si muove della coda perché appena ci saranno novità. E' proprio questo il punto, cioè le novità, insomma, la situazione diventa un po' sempre più delicata ogni giorno che passa. Insomma, domani sono quattro mesi, capisco tutto, però sembra che qualche tassella non sia proprio al posto giusto. Se nessuno dice assolutamente niente. Questa storia nasce strana già dal primo momento perché quando molti di voi dicono, vabbè, ma si sa, insomma, che la donna si è suicidata, che la donna si è ammazzata, si sa. Io non lo so chi è che lo sa. Certamente una persona che si vuole suicidare, innanzitutto, non fa tutti quei giri strani, poi cerca di essere quanto più anonima possibile. Non è che si fa vedere, fa dei giri, va a comprare quel liquido. Perché, insomma, una persona che è fuori di testa, che esce per suicidarsi, cerca di essere trasparente. Non avrebbe senso tutti i movimenti che fa, insomma, in quel giorno. Quindi io sento a credere. E quando voi mi scrivete nelle mail le vostre ipotesi, ve l'ho detto pure, tante altre cose, anche delicate, che io dico, andatene a parlare, insomma, con le forze dell'ordine. Però, si parla, si parla, si parla, ma ovviamente poi a livello ufficiale nessuno dice niente. Come pure, vedete, qualcuno mi fa notare come il fatto stesso che la donna esca di casa quella mattina senza nulla in mano, Allora qualcuno si dice, ma allora questo famoso laccio elettrico di uno scaldino, da dove doveva mai provenire, insomma, se lei non lo ha per le mani? Che cosa fa? Lo aveva già in macchina, ma non sembra che, insomma, lo avesse nelle mani. Quindi, dove se le è procurate, insomma, non si riesce a capire. Quindi, dopo quattro mesi, vedete, a nessuno viene in mente di fare un punto della situazione, a nessuno viene in mente di fare una dichiarazione, ma anche me lo aspetterai dalla stessa famiglia, no? Di dire a quattro mesi, insomma, facciamo un punto della situazione, cerchiamo di sollecitare qualche risultato. È la prima volta che sicuramente mi succede un fatto del genere. A volte, vedete, sembra che ci sia un messaggio silenzioso che non si sapesse che viene accolto in maniera unanime dalla stampa, ma dalla stampa, dalla televisione, da tutta l'informazione, come se passasse un messaggio silenzioso, insomma. Non è la prima volta che avviene questa cosa qui, anche in maniera inspiegabile, in maniera davvero inspiegabile, perché anche in un altro caso, come quello che stiamo parlando di Alice Neri, ad esempio, si è sempre parlato di una figura di un altro uomo che bene o male stava nella vita di questa donna e che viene appellato come terzo uomo quando tutti, tutti, tutti sappiamo nome e cognome di questa persona, però non viene rivelata ufficialmente da nessuna fonte giornalistica televisiva. È iniziato il processo, nell'ambito del processo è stato detto ovviamente nome e cognome centinaia di volte di questa persona, nell'ambito, insomma, delle deposizioni, però non viene assolutamente detto nulla, non viene mai rivelato nulla, in una maniera che non si capisce, perché ad esempio di questo fatto qui, non si capisce quando in tanti altri fatti, in tanti altri vicende, si sanno i nomi e cognomi di amici vicini di casa, persone interessate, persone sospettate, quelle che sia, si sanno i nomi, alcune volte l'informazione prende una direzione ed è una direzione così vincolante, non si sa il motivo, non se ne conosce il motivo e non è la prima volta, quindi anche in questo caso qui c'è una direzione di silenzio assoluto la parte di tutto e di tutti che stento a vederne un motivo di utilità, di razionalità, perché sì è vero, si dice vabbè, non ci sono notizie, che cosa vai a dire, però voglio dire, anche a distanza di quattro mesi con un fascicolo a presto di indagini e con una toposia fatta circa quattro mesi fa, ci sta pure un servizio filmato di dire, ma ci sta qualcosa, qualche intervista, gente magari gli ha detto ai lavori, insomma, per dire che cosa si dice, qual è la sensazione, quali sono i primi risultati, niente, semplicemente è un qualcosa che non esiste più, quindi continuiamo ancora, poi non so, forse ci attenderemo anche noi, poi ci siamo illusi che sia esistita questa donna che forse è una cosa di fantasia, sarà un fumetto, sarà una costruzione di fantasia, non sarà mai esistita evidentemente, quindi il nostro ruolo è quello lì di attendere, non c'è nessuna polemica nei confronti assolutamente di nessuno, perché non si sa nulla di nulla, soltanto chiediamo come, quando e perché è morta Antonella di Massa, uscita di casa il 17 febbraio, ritrovata cadavere in quella posizione, in quella situazione così anomala, il 28 febbraio, oggi 119 giorni dalla scomparsa, condividiamo, questo almeno lo possiamo fare, condividiamo dappertutto, un abbraccio a tutti quanti voi.